1969 Fred Hampton leader delle Pantere Nere ucciso dalla polizia di Chicago 1991 terminano i voli della Pan Am 1991 gli Hezbollah libanesi liberano l'americano Terry Anderson commenta il fatto del giorno Marco Tarquinio direttore dell'Avvenire 4 dicembre 1968 nasce il quotidiano avvenire il quotidiano che io dirigo una storia che dura da 50 anni e che continua